L'influenza quest'anno picchia forte, dopo due anni con la mascherina in cui sostanzialmente raffreddori e influenze varie erano scomparsi, con la fine delle restrizioni degli obblighi e tornata a farsi sentire l'influenza e l'Italia come il resto dei paesi, è colpita da un'ondata importante, soprattutto nei bambini, con i pediatri medici di base costretti agli straordinari. Una cosa normale, secondo il direttore del Dipartimento Igiene Enrico Gianzante, ma essenziale la vaccinazione, soprattutto per i fragili. L'influenza sta dando molti casi in questo periodo, effettivamente ci preoccupa. Il picco non è ancora arrivato, siamo in una fase importante, ci sono molti casi, ma il picco ce lo aspettiamo per i primi di gennaio. Perché l'influenza è tornata? È tornata perché negli anni passati abbiamo usato le mascherine, c'è stato il lockdown e quindi non c'è stata la diffusione e per questo, ripeto, è molto importante vaccinarsi. Non bisogna abbassare la guardia, bisogna fare sempre la vaccinazione. Negli anni passati effettivamente l'abbiamo fatto un po' di meno, questo è l'anno buono per ricominciare a farlo con un certo impegno. La campagna è iniziata da tempo e dopo una prima risposta blanda e timida la gente sta rispondendo bene. Ora in provincia sono stati attivati ben 16 punti vaccinali. Noi abbiamo iniziato la campagna anti-influenzale già dall'11 ottobre. La risposta inizialmente è blanda, si è poi andata man mano ad aumentare. Noi abbiamo ordinato 67 mila dosi in provincia, ne sono state distribuite tra medici di base e farmacie oltre 59 mila dosi, abbiamo quindi un'aggecenza di 8 mila dosi, quindi la risposta è senz'altro buona. Noi non abbiamo nemmeno problemi di approvvigionamento e abbiamo attivato la bellezza di 16 punti vaccinali in ambito provinciale che sono spesso uniti anche a quelle dove si fa il covid, ma ci sono anche quelli specifici pediatrici a cui i bambini possono, le mamme di bambini possono rivolgersi.